martedì 8 novembre buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori di fano tv occhio ai giornali tutte le mattine come sempre in diretta alle 7 e 30 ben ritrovati cominciamo dal santo di oggi la chiesa oggi ricorda un santo che arriva dalla scozia siamo nel 1200 e qualcosa il beato duns scoto nacque infatti in scozia è stato sacerdote il sole è sorto le 7 35 e tramonterà le 18 09 andiamo a vedere il nostro sito internet occhio la notizia punto it la redazione ha battuto la notizia della ieri sera che riguarda un anziano che è scomparso da casa d'urbania proseguono le ricerche per trovare questo signore di 77 anni di urbania che da domenica sera domenica 6 novembre non è più non ha più fatto rientro nella sua abitazione ha salutato la moglie poi se n'è andato si era allontanato nel primo pomeriggio per essere poi notato un'ultima volta alle 18 mentre percorreva la pista ciclabile a piedi lungo la strada provinciale pegliese in direzione peglio a circa due chilometri dal centro di urbania le ricerche sono condotte in stretto contatto tra i militari della compagnia carabinieri di urbino con il comando provinciale dei vigili del fuoco di pesero e la protezione civile coordinate naturalmente dalla prefettura sono 50 in tutto gli operatori civili militari che a vario titolo concorrono nelle operazioni di ricerca impegnate anche le unità cinofile e il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco chiunque potesse fornire notizie attendibili sul conto di questa persona qui che è scomparsa è pregato di contattare con urgenza le autorità di pubblica sicurezza il numero è il 112 per i carabinieri 115 per i vigili del fuoco questa è la notizia in apertura la notizia ripeto battuta ieri sera dalla redazione sul sito di occhio notizia.it e oggi lo vedremo anche sui quotidiani andiamo a vedere però le previsioni del tempo oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con maggiore densamenti nel pomeriggio rovesci sparsi in esaurimento nelle zone interne a partire dalla serata le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori massimi venti sono di brezza tesa occidentali in rotazione da nord ovest nel pomeriggio lungo la costa con rinforzo dell'intensità fino a vento moderato ma nulla non dovrebbe essere come nei giorni scorsi dove il vento è soffiato fortissimo un vento di libeccio caldo ma forte andiamo sulla pagina per le previsioni di domani mercoledì 9 novembre cielo parzialmente o poco nuvoloso con aumento però della nuvolosità in serata avremo anche sempre in serata dei locali rovesci più probabili nel settore centro settentrionale della regione le temperature sono in diminuzione e poi queste sono le previsioni invece per giovedì 10 con deboli piovaschi residui nelle prime ore della giornata appunto di giovedì in esaurimento nella mattinata le temperature sono in aumento nei valori massimi per quanto riguarda la tendenza nei prossimi giorni avremo tempo comunque che andrà via via migliorando almeno fino all'inizio della prossima settimana diamo un'occhiata allora ai giornali cominciamo dal resto del carlino questa è l'edizione di pesero avevano chiesto di entrare in italia di poter rimanere chiedendo asilo come fanno in tantissimi però purtroppo una volta entrati in italia si sono dati allo spaccio e in particolare nella zona del miralfiore a pesero il titolo è rifugiati spacciatori arrestati richiedenti asilo dal del gambia del gana vendevano fumo nel parco miralfiore ai ragazzini minorenni questa è la pagina principale del resto del carlino quella di fanno invece si occupa dell'accordo l'accordo firmato tra i carristi e l'ente carnevalesca l'ente dice daremo lavoro a 100 persone non ci sarà il carro delle wings ma potrebbe esserci un carro dedicato a Dario Fo rispetto al progetto iniziale di 370 mila euro ne sono stati messi a bilancio 120 mila euro e si parla di soldi finanziamenti anche nella pagina in fondo la pagina di Fano con i soldi che solitamente eroga la fondazione cassa di risparmio di Fano che vedete il suo presidente Fabio Tombari ecco chi potrà contare sui contributi della fondazione al sociale e all'università le fette più consistenti degli stanziamenti madre e figlie intossicate dai funghi li aveva preparati per loro la nonna ha chiamato un medico da Urbino la famiglia è stata tenuta in osservazione per valutare la reazione alle terapie sospetta l'eptospirosi invece a Fano un canile è stato chiuso e il cucciolo domingo è rimasto solo i due cagnolini erano inseparabili ora si cerca un padrone i sintomi quando è stata trovata morta aveva le mucose gialle la cautela la febbre da campo può colpire anche le persone e dunque è doveroso indagare da Urbino ecco la croce che è stata smontata dopo il forte vento che l'ha fatta la staccata adagiata su vedete sul campanile sulla torre sulla punta di questa di questa torre vedete com'era il forte vento l'aveva quasi staccata del tutto poi ci hanno pensato i vigili del fuoco ci sono voluti 5 mila euro di gru cippi rimossi tanti curiosi i tecnici del comune i pompieri hanno vinto la battaglia san francesco dunque disinnescato tra virgolette anche perché in effetti era pericolosissima guardate la palla sulla quale poggia la croce guardate di grandi dimensioni i frati in ritiro spirituale sono andati sono andati ad assisi il cimeglio ora giace nel convento si sta pensando di rifarlo in acciaio il predatore da 30 kg finito a lamo ecco il pesce pescato da questo ex geometra che si è appostato la foce del foglia e ha pescato una leccia amia gigante era talmente grosso che per pulirlo ha detto ci ho messo il doppio che per pescarlo la corriere adriatico l'edizione di pesero apre con l'escalation dei parcheggi blu a pesero per parcheggiare sono sempre sempre in aumento è stata è quadruplicata praticamente in 14 anni la sosta blu quella dove si paga per parcheggiare appunto centro e mare dal 2002 ad oggi gli stadi a pagamento sono quadruplicati e le tariffe sono raddoppiate centro pagina invece una foto che dà anche speranza il futuro non crolla camerino continua l'università a sfornare laureati all'università la cerimonia tra le scosse il rettore dice troveremo casa agli studenti sfollati questa è la prima pagina andiamo adesso sulle pagine interne quelle di pesero morte di diego il pizzaiolo stroncato dal cuore per i medici della famiglia l'autopsia sul corpo dello chef avrebbe evidenziato problemi cardiaci i risultati ufficiali li avremo soltanto tra 60 giorni domani il funerale nel paese natale di tre case dove verrà cremato due indagati tra i medici del pronto soccorso che lo avevano visitato lo scorso 2 di novembre questa è la pagina di pesero primo piano vieni c'è uno spinello al miralfiore invece arrestati i pusher richiedenti asilo presi dai carabinieri due migrati spacciavano alle ragazzine per pochi euro uno è recidivo e rimarrà in carcere non solo il campus nel mirino dei controlli la sorveglianza dei carabinieri i controlli dice il capitano degori continueranno proseguiranno senza sosta in quell'area un po a rischio freddo e gelo invece in arrivo nelle marche resistere a quota mille trattende roulotte a ussita i pochi rimasti mangiano grazie alla mensa portata dall'esercito a monte monaco arrivano i container venduti da un'azienda a 10 euro ci sono le previsioni del tempo che abbiamo appena visto sulla sulla regione ma in particolare focalizzate sulle zone terremotate che appunto non provvedono nulla di buono ma soprattutto a incidere è l'altitudine perché parliamo di località come bolognola 1070 metri monte monaco 988 ussita 744 metri sul livello del mare la pagina di fano del corriere incidenti ecco i tratti più pericolosi questo è un incidente che è avvenuto qualche mese fa sulla statale flaminia nella zona di rosciano lo scorso settembre ecco i tratti più pericolosi dicevo flaminia è statale come un circuito i tratti urbani dove si corre e si rischia di più la mappa dei rilevamenti della municipale l'introduzione delle videocamere a partire da viale primo maggio servirà comunque da deterrente tamponamenti e investimenti sulle strisce lungo le aree urbane delle due arterie più trafficate asfalto invece eccolo qua in questi giorni stanno arrivando anche noi alla nostra redazione segnalazioni di pezzi d'asfalto che erano stati annunciati come di ultima generazione in realtà insomma hanno già le prime toppe quindi il titolo del corriere è asfalto nuovo già rattoppato lavori sul manto della ciclabile di via Roma sistemati senza seguire le normative su facebook esplode la rabbia buche e coperture malfatte non è la prima volta l'azienda non dovrebbe ribitumare solo l'area di intervento ma la metà della carreggiata ma in realtà così come vedete anche da questa fotografia non non avviene fusione aset il movimento 5 stelle risparmio risorio l'operazione vanificata dei costi della fusione che sono e montano a circa 800 mila euro andiamo sulla pagina di 42 di fano del corriere eccola qua salva bimbi istruzioni per l'uso un incontro non solo per i genitori promosso dal consultore familiare con società di salvamento e la casa tonda vedete nella fotografia di cosa stiamo parlando di alcune fasi per esempio di questi corsi che sono molto importanti perché poi quando capita che un bimbo sta per soffocare sta per morire non si sa mai quali sono le manovre da da fare per evitare che questo che peggiore la situazione e quindi vedete tutte le posizioni corrette per poter espellere poi questo corpo estraneo all'interno della bocca della gola dell'esofobo del del bimbo soprattutto quando è così piccolo come vedete nella fotografia ecco sono dei corsi importanti che sarebbe bene fare noi tra l'altro vi abbiamo trasmesso anche qualche settimana fa qualche mese fa alcune alcune indicazioni in uno speciale televisivo alcune indicazioni utili per poter fare queste manovre salva vita dalla valle del cesano voragine questa è la volta buona speriamo la provincia ha finito il progetto con l'annuncio il primo cittadino di orciano dove c'è stata questa voragine qualche qualche anno fa ormai possiamo dire è venuto giù tutto è venuta la strada è venuta giù tutta quanta vedete il sindaco di orciano prova a sedare i malumori per i ritardi però adesso sembra che sia appunto la volta buona quasi terminata la ristrutturazione del bocciodromo gran concerto il 19 torna agibile il palazzetto i tre ragazzi a marotta gli amministratori parlano di luogo fondamentale per il nostro territorio cacciatori troppo vicini alle case sempre da marotta sul corriere arrivano i pallini sul terrazzo chiamate i carabinieri e proteste sui social per gli spari a due passi da da marotta diverse le segnalazioni partite dagli abitanti di via salvemini nella zona orientale e poi sotto da frontone san martino apre la stagione sciistica del catria durante la ricorrenza anche la presentazione di due nuovi corsi da senigallia siamo in chiusura ha ucciso un ladro punito dal giudice un anno all'appuntato dei carabinieri siamo ad ostravetere fu eccessivo l'uso dell'arma di servizio da parte del carabiniere che sparò alle gomme dell'auto dei ladri in fuga a ostravetere uccidendone uno di 24 anni un albanese con un proiettile di rimbalzo per questo il gruppo di ancona francesca zagoreo ha condannato con rito abbreviato per omicidio colposo ad un anno di reclusione pena sospesa mirco basconi appuntato dei carabinieri per il fatto accaduto nel 2015 gli esperti rassicurano senigallia le scuole sono sotto controllo verifiche a tappeto servono interventi ma non c'è nessun pericolo dopo le scosse di terremoto è l'ultimo gioco un gioco da pazzi in strada ragazzi vince chi ferma più auto i vigili bloccano giovani che piombano sulla traiettoria per il divertimento shock una notizia e una moda terribile che lanciamo vi facciamo vedere qualche mese fa anche a Fano purtroppo ci sono questi episodi nella zona di Sant'Orso e anche nella zona dell'aeroporto e si rischia, si rischia davvero tanto, si rischia grosso l'ultima pagina invece, questa di Urbino, eccola qui Don Elia, esperienza fantastica, il santuario può prendere forma Don Rusconi analizza la vita del sacerdote che ha fatto partire il progetto e vedete in questa immagine straordinaria l'affettuoso saluto di Papa Giovanni Paolo II a Don Elia Bellebono e c'è un convegno al quale vi voglio invitare un convegno che propone di presentare alla cittadinanza urbinate ma non solo urbinate, l'erigendo santuario che si trova in Castaccolo è una storia, la figura di questo fondatore dell'opera un sacerdote bergamasco, Elia Bellebono è nato a Civitata del Piano, un ciabattino con poca istruzione ma con un cuore enorme un cuore grandissimo, ne parlo evidentemente avrete capito anche perché per diversi anni l'ho conosciuto, vent'anni fa è morto un sacerdote santo, un bel sacerdote ce ne vorrebbero tanti, grazie per averci seguito a tutti gli auguri di una buona giornata Grazie a tutti